Dalla pluriclasse presso la scuola elementare di Zermen ai più prestigiosi incarichi accademici e scientifici entro i confini nazionali, soprattutto l'Università di Padova ma anche all'estero. La parabola del professor Flavio Seno, classe 1962, una vita professionale dedicata allo studio, in particolar modo nell'ambito che unisce la fisica statistica alla biologia, incarna perfettamente lo spirito con cui Famiglia Feltrina segna ogni anno il suo premio più prestigioso, il Santi Martiri Vittore Corona, ha sottolineato il presidente del Sodalizio Enrico Gazz. La figura di Flavio Seno è stata poi presentata dal collega, pure Feltrino eppure già insignito del medesimo riconoscimento, professor Flavio Toigo, che ne ha messo in luce la doppia valenza di scienziato ed educatore. Dal premiato parole di riconoscenza e affetto verso la propria comunità di origine. Sono particolarmente emozionato e grato alla comunità Feltrina per questo premio. Io ho lasciato Feltre, diciamo, appena finito il liceo per trasferirmi prima a Padova, poi andare all'estero e poi ritornare a Padova e quindi non frequento più Feltre tantissimo, però sono sempre stato legatissimo a questo luogo, alla cultura, al modo di essere. Il professor Seno, nel cui team di ricerca lavorano studiosi di varie nazioni, tra cui proprio Russia e Ucraina, ha poi rivolto un pensiero accorato a quanto sta accadendo lungo quel confine e che potrebbe portare a conseguenze drammatiche anche nel mondo scientifico. Io spero che l'esempio della scienza, della cultura, venga recepito dai politici, che si ritorni a ragionare e a capire che non dobbiamo combattere per i confini, ma per le vere sfide che ha di fronte l'umanità, che sono il cambiamento climatico, che sono le nuove possibili malattie e la ricerca di nuove fonti energetiche. Grazie a tutti.